Alcune limitazioni alla circolazione sono previste nel fine settimana lungo la quattro nel tratto tra Sanstino di Livenza e la Tisana per consentire la prosecuzione dei lavori per la terza corsia nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro. Lo rende noto Autovie Venete. Tra sabato e domenica, spiega la concessionaria, oltre all'intervento sull'asse autostradale sui tratti di nuova realizzazione, verrà steso un nuovo pacchetto di cementati e asfalti in corrispondenza del nodo di Portogruaro all'altezza della rampa che dall'A4, provenienza da Venezia, conduce verso l'A28 in direzione Conegliano. Pertanto, dalle 20 di domani verrà chiuso il tratto dell'A4 tra Sanstino e la Tisana in entrambe le direzioni. Nel corso della mattinata di domenica, il tratto autostradale interessato verrà riaperto non appena le condizioni lo consentiranno, ma a causa del lungo e complesso intervento all'altezza delle rampe di Portogruaro resteranno inaccessibili fino alle 12 lo svincolo di uscita a Portogruaro per chi proviene da Venezia e l'ingresso a Portogruaro in direzione Venezia e Trieste.